L'Aggiunta Comunale di Gela non è attenta e fa nulla nel settore agricolo. Se invece si parla di Eni, sottoscrive accordi e fissa riunioni. Lo dice il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Nel programma dei grillini il comparto agricolo era da attenzionare, ma l'amministrazione non ha alzato un dito. E possiamo andare a vedere quali sono i propri problemi che il Movimento 5 Stelle tratta all'interno del programma che abbiamo presentato un anno fa, che sono la sicurezza nelle campagne che viene a mancare, il problema del limo, il problema dell'acqua, il problema dei mercati agricoli. Tutti i problemi che il Movimento 5 Stelle durante la campagna elettorale in effetti ha messo in evidenza la cittadinanza e dove si è promesso di risolvergli questi problemi. E perché non si è intervenuti? Purtroppo a distanza di un anno, anche quando il sindaco dice, e l'ha detto anche in aula consigliare, che lui in questo anno ha espletato il programma del Movimento 5 Stelle, questo francamente non è vero. Perché tutti questi punti non sono stati toccati dall'amministrazione. Dunque è un problema riconducibile solo alla Giunta Comunale che non ha fatto nulla? Molte cose sì, perché la sicurezza, per quanto riguarda l'amministrazione, almeno nel programma c'era scritto che potevamo benissimo interagire con gli studi di vigilanza, anche con il consorzio di bonifica, cercare di fare qualcosa anche attraverso la prefettura. Per quanto riguarda l'Imo, il proprio sindaco dai parchi diceva che le tasse vengono pagate per dare dei servizi agli agricoltori. Però per quanto riguarda le tasse che gli agricoltori gelesi pagano da circa 20 anni, e dobbiamo anche ricordare che l'Imo si paga solo a Gela nella provincia di Caltanissetta, di servizi non se ne vede nemmeno uno. Gela soffre più degli altri comuni perché abbiamo subito la chiusura della raffineria, e quindi l'unico settore che oggi occupa più di 5-6 mila persone è il settore dell'agricoltura. Ma oggi è in cinocchio, quindi nel momento in cui tutte queste problematiche vanno ad affliggere il settore, non è possibile rilanciarlo. Il Movimento 5 Stelle interviene anche sul problema dell'acqua per uso irriguo. Per quanto riguarda il problema della siccità e dell'acqua che manca nelle campagne in questi giorni, non è solo un discorso meteorologico perché non piove. Ovviamente quando non piove i problemi escono fuori, ma anche perché c'è una brutta gestione del Consorso di Bonifica che quando le dighe potrebbero invasare invece non invasano e l'acqua va a mare. In questo l'amministrazione teoricamente potrebbe fare poco perché non è un discorso dell'amministrazione, ma potrebbe politicamente invece fare pressioni a Palermo e risolvere quelle problematiche politiche che ci sono tra la Regione, tra il nostro Presidente e il Consorso di Bonifica.